Pareggio di Seleme Kers al minuto 97, dovuto uscire prima, non ho visto nel gol di Abram, nel gol di Seleme Kers. Pareggio al Milan, un gol pesante come un fin di Fassbinder, dopo una partita difficile, collosa, complicata. La Roma si è ben difesa, ha perso degli uomini, il Milan sul piano tecnico non è mai riuscita a esprimersi al meglio. Prende un gol a tre minuti dalla fine in recupero, ma Salamandra, Salamandra pareggia, un risultato prezioso per il Milan. Una partita che sembrava finita sullo 0-0, ha visto il Milan riuscire con Seleme Kers. Peccato che non fossi dentro lo stadio, ma signori c'era un treno che mi aspettava. Forse la prima volta che io esco prima da una partita, ma la gioia del gol di Seleme Kers che pareggia il gol di Abram. Il Milan ha giocato una partita come la Roma, molto contratta, non bella in tanti suoi giocatori, in tanti suoi protagonisti. Fra i migliori certamente Tonali, che si è dato molto da fare come Kier, ma là davanti bene Leao, benino Giroud, però a centrocampo dove doveva nascere l'ispirazione, né Benasser, né Diaz, né lo stesso Krunic sono riusciti a dare qualcosa di importante. Nel primo tempo l'occasione fermata da Abram su tiro di un suo compagno è l'unica emozione con due tiri che sono usciti di poco di Calabria. Questo ha detto nel secondo tempo nemmeno quello, qualche cross da una parte e dall'altra con i portieri che si sono ben disimpegnati. Poi mentre ero già fuori, mentre stavo già andando, lo scarabeo ci ha aiutato ancora una volta, lo scarabeo, perché stavamo sotto 1-0, è un gol pesantissimo di Salamandra, grazie anche all'aiuto dello scarabeo sacro, che ci dà sempre una mano in questo mese di aprile, lo scarabeo sacro. Sembrava tutto finito e finita? La partita è finita 1-1, non chiedetemi di descrivervi i gol, solo le sensazioni, le emozioni da un taxi, anzi da un Uber di Roma che mi sta portando per evitare di perdere il treno. Peccato, non ho sofferto per il gol di Abram, ma avrei urlato come urlato in taxi per il pareggio di Seleme Kers al minuto e poi sono curioso di andarli a vedere questi gol, di andarli a vedere. Comunque il Milan pareggia, rimane pari alla Roma, adesso attendiamo la partita della Lazio, dell'Atalanta che può avvicinarsi, dell'Inter appunto con la Lazio, dell'Atalanta che deve giocare a Torino come il Bologna affronta la Juventus. Però dopo una partita da 0-0 era un peccato perderla, tempo è scaduto e il Milan, mettendo ancora la sua anima, la sua voglia, è riuscito a pareggiare. Grande Salamandra che è entrato benissimo, giocatore prezioso e il Milan si porta dunque sull'1-1. È stata una partita sofferta, ma sofferta sul piano non è stata una bella partita da una parte e dall'altra, ma quello che conta è il risultato. Lo Scarabeo ci ha aiutato, io prendo il treno, mi dispiace non aver urlato quello che conta che i ragazzi hanno pareggiato. Infiniti, incommensurabili, splendidi ragazzi, grandi ragazzi. E allora 1-1 qui a Roma. Se vi è piaciuto questo video dal taxi, primo video dal taxi, l'importante è esprimervi la mia gioia.